Il tratto del fiume Cavone tra Montalbano e Pisticci sono in corso degli accertamenti per stabilire la natura di alcune macchie comparse sulle sue sfondi. Allora, vediamo questo servizio di Rino Cardone. I colori delle argille dell'alveo del Cavone, poco distante dalla foce che sversa sullo Ionio in territorio di Pisticci, sono un segnale evidente della presenza di minerali estranei al territorio, sospetti dal punto di vista della salute pubblica, contrari al bene ambientale, la cui natura e provenienza merita attenzione perché indica la possibilità di una fonte inquinante a monte o a margine del corso d'acqua. In allarme per questo le associazioni ambientaliste. Noi ci aspettiamo che venga tutelata la salute pubblica, sia per le acque superficiali, sia per le acque sotterranee, per i pozzi eventualmente vicini che possono essere contaminati e che possono essere acque attinte per l'utilizzo, per lo scopo zootecnico, per lo scopo agricolo. E soprattutto inizia la stagione estiva, quindi dovremo andare al mare e portare i bambini al mare. Questo ci preoccupa come mamme. La cosa ancora più grave è questa colorazione sicuramente anomala, il collasso del terreno e io a queste criticità aggiungerei il silenzio e la inattività delle amministrazioni pubbliche. Quando si parla di ambiente e di tutela, noi siamo tutti dalla stessa parte, quindi spesso tra movimenti ambientalisti e amministrazioni ci sono delle incomprensioni. Noi siamo tutti dalla parte dei territori e dei cittadini, però abbiamo bisogno di collaborare per poterli tutelare. L'associazione Gova Contro e il giornalista Andrea Spartaco, autotassandosi e con il contributo spontaneo dei cittadini, hanno fatto dei nuovi campionamenti e delle nuove analisi. Già in passato risultava acclarato lo sforamento di valori importanti come metalli pesanti e idrocarburi. Delle nuove analisi avremo a giorni i risultati. Delle ultime ore l'intervento della Prefettura che sul posto ha inviato i carabinieri forestali all'ARPAB. Sì, la Prefettura ha comunicato anche a noi questa circostanza e noi di rimando abbiamo chiesto all'ARPAB e alla Regione di informarci sulle attività di monitoraggio fatte.